Questa sera con inizio alle ore 18 presso la Scuola dei Amici Sera Battipaglia si rivolgerà il primo incontro pubblico per il cartello politico denominato Costituente per Battipaglia, di cui fanno parte sette simboli. Un momento di riflessione per discutere e raccogliere anche suggerimenti per migliorare e rilanciare la città attraverso progetti ed idee condivise. Per parlare alle persone, per parlare alla città, per parlare alle tante risorse che sono presenti in questa città. Apriamo un cantiere di idee libero alle persone del fare, alle persone che possono, vogliono e che debbono, riteniamo noi, impegnarsi per questa nostra città. Visto lo stato in cui riversa, pensavamo di aver raggiunto il limite massimo della negatività dopo le precedenti amministrazioni, fasi di commissariamento, invece penso che le persone si stanno accorgendo che purtroppo questa è una città destinata a fermarsi, non cammina neanche più. Quindi abbiamo la necessità di riaprire un cantiere di idee, lo facciamo a più voci, lo facciamo con le costituenti di Battipaglia, con le tante associazioni che hanno aderito a questo progetto. Riteniamo che è possibile incontrare altre risorse per mettere nella condizione Battipaglia ai cittadini di avere meno insofferenze e meno emergenze. Gli ultimi dati, le ultime cose di questi giorni, a partire dall'ambiente, a partire dal fiume, a partire dalle passazioni che ancora purtroppo subiamo pesantemente, su tutto riteniamo che c'è bisogno di mettere insieme persone, idee, quindi riaprire un cantiere di idee insieme a persone del fare. Quando vorranno saremo lì a disposizione, è un'operazione aperta, quindi riteniamo di aprire una nuova via e preparare la città ad accogliere nuove idee e un'alternanza a quello che purtroppo è oggi una grande negatività amministrativa e anche di governo della città.